Quest'anno a Restruttura ci presentiamo con tre profipartner. Non li definiamo profipartner perché sono rivenditori altamente qualificati. Sono rivenditori che noi abbiamo selezionato nel tempo e abbiamo via via sempre di più specializzato. Perciò sono tre partner presenti in Sud Torino, la Fracchia, la Redoporte e Tutoporte, che si presentano anche per il professionista. Perciò noi da sempre puntiamo su Restruttura perché consideriamo una vetrina molto importante per il professionista. In questa edizione siamo presenti anche con dei prodotti che abbiamo portato alla fiera del MedExpo dove hanno riscontrato molto successo. Di conseguenza lo riteniamo molto importante che sia presente anche in fiera qua a Restruttura. Quindi la qualità in primo piano? Sempre, finisca dal cavallo di battaglia. Qualità su tutto, qualità e professionalità. Noi vogliamo trasmettere al professionista la nostra disponibilità a 360 gradi da un'assistenza alla stesura del disegno, della realizzazione della casa fino alla posa in opera del serramento perché noi dobbiamo dare una qualità completa dall'inizio alla fine.